farina farina pane pane Il pane è fatto con la farina. Il pane è fatto con la farina. Una dozzina di uova. Una dozzina di uova. Riso. Arroz. Riso. Quando il riso viene cucinato, si chiama riso cotto. Quando l'arroz sta cocinato, si chiama arroz cocido. Quando il riso viene cucinato, si chiama riso cotto. Spaghetti. Fideos. Spaghetti. Cartone di latte. Un cartone di latte. Una bottiglia di latte. Una botella di latte. Una bottiglia di latte. Quattro litri di latte. Un galon, 3,5 litros, de leche. 4 litri di latte. Salsa di pomodoro. Concentrato di tomate. Salsa di pomodoro. Ketchup. 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 Fagioli. Judias. Fagioli. Sale. Sal. Sale. Il sale è salato. La sal è salada. Il sale è salato. Zucchero. Azúcar. Zucchero. Lo zucchero è dolce. El azúcar es dulce. Lo zucchero è dolce. LIMONATA. LIMONADA. LIMONATA. La limonata è aspra. La limonata è ácida. La limonata è aspra. Colluttorio. Colluttorio. Enjuaghe bucal. Colluttorio. Il colluttorio è amaro. El enjuaghe bucal è amargo. Il colluttorio è amaro. Pepe nero. Pimienta negra. Pepe nero. Il pepe è piccante. La pimienta è piccante. Il pepe è piccante. Polvere d'aglio. Ajo molido. Polvere d'aglio. L'aglio puzza ma è molto salutare. El ajo huele mucho, pero è muy sano. L'aglio puzza ma è molto salutare.